Seconda giornata fase a gironi, Super Cup, Guanciotti contro Kitz. Mettiamo in presa diretta nella telefronaca, sbaglia il passaggio Giacomo Ruggiero, poi palla davanti a cercare l'attaccante, poi ancora Ruggiero, una serie di rimpalli, poi Fusco, la palla finisce tra le mani del portiere, subisce un pallo, no non è un pallo, è semplicemente un giocatore a terra, la broca, il contro di Fuglia non gli riesce, poi sbaglia ancora alla fine della palla, il fallo laterale anche se c'era un fallo, secondo l'arbitro insieme a adesso il pallone. Ruggiero, il tiro, palla deviata, in avanti, seguente... Allora laterale, ancora Ruggiero, il dribbling, dall'al centro, finisce sul fondo, ripartirà quindi dal fondo, giro ancora, mezzo a due, non gli riesce il dribbling, poi spina, mette direttamente il pallo davanti, poi un pallo, diamo il circolo davanti.